Perché Lug è Lug 4317 Io sono nato con Tetris Io ho passato la mia infanzia su Tetris Quello non ha colori E ragazzi ritrovarlo A distanza di tanti anni Allora guardate Quando si fanno le righe a 4 Come in questo caso è il vero Tetris E infatti esce pure la scritta Tetris Non ci credo Mentre se invece effettuiamo le linee normali Ci dà i punti ma sono la singola La doppia e la tripla Ok quando è quadrupla è il vero Tetris Guardate in basso a sinistra c'è il livello Ora sto facendo una maratona Credo sia una maratona Devo arrivare a livello 15 per sbloccare altre modalità E ho detto ma quasi quasi ci faccio un video Ora logicamente taglierò ragazzi Perché se no dovrei farvi un video continuo di 4 ore Perché io a Tetris sono abbastanza bravo Diciamo che so il meccanismo del gioco Per cui potrei annoiarvi Tra virgolette Allora magari vi taglio qualche pezzo qua e là E vi riprendo quando siamo nei livelli più altucci altini Che ne dite Che ne dite Che ne dite Come per esempio adesso se mi uscisse una riga lunga Eccola lì Eccola lì In alto a destra c'è a vedere il materiale quello dopo Bam Tetris E siamo quasi al livello 2 Siamo quasi al livello 2 Il gioco l'ho pagato 9,90 euro Sull'Xbox One ragazzi Era in home Sarà anche un gioco del Kaiser Pagarlo 10 euro Magari è troppo Si può giocare anche Sui browser gratis per esempio Perché Tetris è un gioco antichissimo Ed è un passatempo Però L'ho comprato L'ho comprato Non mi interessava ragazzi L'ho comprato perché Ho detto quasi quasi ci faccio un video Ma che cacchio me ne fotta A costo di beccare i pollici in giro Mi interessa Io faccio un video su Tetris Livello 2 Livello 2 E ogni qual volta io gioco a Tetris Mi sento bambino Si ragazzi Io mi sento bambino Perché io Amavo Adoro Amo tuttora Tetris E Veramente Veramente Cioè guardate La gestionalità Io vado anche veloce Perché io Cioè sono già i pezzi che usciranno Perché io sono Ho sbagliato Perché io sono un mago in questo gioco Vedete questo qua Lo incastriamo qui Per esempio quello verde Ora vi direte Luke No però aspetta 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 Sto facendo una cagata Invece Mi sono salvato in calcio Estremo d'angolo Non vado Io voglio fare i Tetris Se non vado a mandare giù le righe Lo so che sto rischiando E se non mi riesce ora una barra lunga Sono nella fottuta cacchetta Però Guardate Se questo lo mettiamo qua E questo lo giriamo qua Alla fine arriva il premio Che è la barra lunga Tetris Tre linee Da completare Per passare di livello Di livello Guardate Pam pam Questo Lo mettiamo qua E ora vi faccio vedere una cosa Guardate Ora vi voglio rischiarmela Guardate Faccio la doppia E mi rimane Un buco occupato In basso a sinistra Lo vedete Ma lo andiamo subito a liberare Perché La cosa buona di Tetris Ragazzi Una cosa ottima di Tetris Cioè Uno dei trucchetti di Tetris Ma non è un trucchetto È una cosa intelligente È Vedete Io sto giocando Con questo qua arancione Ma intanto Sto calcolando Quello verde In alto a destra Dove potrei metterlo Nella mano dopo Capite Vedete Io questo lo metto qua Ma già sapevo che il giallo Lo mettevo qui Ora quello lungo Se io lo metto qui Già sto pensando a quello verde Che lo andrò a mettere Sull'altro verde Per esempio Qui Ma già sto pensando Che quello blu Io lo metterò qua È veramente Una cosa fantastica E siamo a livello 3 Per cui È tutto rallentato Ora questo per esempio Lo metto qua Andando a formare il buco Non mi interessa Perché stiamo rischiando Un po' troppo Siamo a livello 3 Pensate più Siamo andati di livello Più aumenta il gioco La velocità Ora se non mi esce Una barra lunga Eccola lì Ma andiamo a fare Semplicemente una doppia Per cui Ci salviamo di poco E stiamo leggermente Rischiando Vedete Ora qua Io mi tocca fare un buco Ma occupare Meno possibile Una bella barretta E andiamo a fare Un'altra doppia Boom Ora è pericoloso Salire di livello In questo momento Perché andremo Ad aumentare la velocità E siamo nella cacchetta Un'altra barra lunga Andiamo a fare Non una doppia Ma una singola Boom Ragazzi c'è il buco Al centro Se notate C'è un buco E dobbiamo crearne Il meno possibile Di questi buchi Ora si Siamo nella cacca Ragazzi Ora sono Finalmente nella cacca Questo lo metto qua E con questo Ah al contrario Che cacchio Combinato Ok si Sono nella cacca Ora mi serve Urgentemente Una barra lunga Ma urgente Ma urgente 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 Eccola Ma non credo Mi salvi Non credo Mi salvi Faccio una doppia Bruttissima Faccio una doppia Un'altra barra lunga Attenzione E faccio Una singola Ero così Messo male Guardate che mi tocca fare Guardate che mi tocca fare Così Mi tocca fare così Per fare una singola Per poi andare a fare Un'altra singola dopo Ossia adesso Boom E liberare quel buco No non libero il cacchio Salgo pure di livello E mi aumenta la velocità Porca logia Bacca ragazzi Intanto scrivetemi nei commenti Cosa ne pensate voi Invece di Tetris Chi di voi È stata anche per voi La vostra infanzia Eccetera eccetera Molti di voi sono piccolini Per cui l'hanno scoperto Negli ultimi anni Tetris Bello questo colpo Bellissimo questo colpo Mi tocca fare il buco Non mi interessa Tanto lo liberiamo Subito Guardate 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 l'intelligenza Lo andiamo a liberare No non lo liberiamo però Ci andiamo vicini Questa barra Le barre sempre negli angoli Mi raccomando Andiamo qui E liberiamo il buco Liberiamo il buco Per andarlo poi Ad occupare Perfetto Perfetto Ci stiamo salvando In calcio d'angolo ragazzi Ci stiamo salvando In calcio d'angolo Attenzione 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 Io volevo tagliarvi il video Ma mi sai Mi tocca registrarvelo tutto E magari lo taglierò a pezzi Non voglio farvelo troppo lungo Facciamo una singola Ma Un'altra singola Ma vado a liberare il buco a destra E siamo a livello 5 A livello 5 Stiamo Ah mi dice anche il tempo sotto Per cui sto registrando da 6 minuti Ok Ancora è presto Ora io li vorrei mettere Porca loggia Questo è perfetto È perfetto L'arancione Ho sbagliato No cosa ho sbagliato Perché appunto Stavo pensando all'arancione Vedete Però liberiamo un buco Adesso dobbiamo Sistemare il danno Fatto lì a destra Ragazzi Allora bella questa barra Bella Andiamo qui Ora questo qua Lo mettiamo qui E questo per forza qui Perché poi qua Li mettiamo questo Pam Ok Ok ci siamo ragazzi Ci stiamo liberando dei danni Che poi non sono danni Molte volte siamo obbligati A creare quegli spazi Quei buchi Però poi Li andiamo a salvare Ed è quello il bello del gioco Andare a salvare i buchi Come in questo caso State vedendo Sto cercando di salvare Bello quel viola Bellissimo Bellissimo Mamma stavo sbagliando E si libera un altro buco Ed è ottima Perché andiamo a fare Un'altra singola Un'altra singola Ora E guardate Livello 6 Livello 6 come viaggia Mi stavo grattando la barbara Ragazzi per cui È stato un mio errore Mea culpa lì Livello 6 Guardate come inizia a viaggiare Lambaradam Facciamo così Eh ora sto giocando male La sto giocando male La sto giocando male Anche perché Già è difficile Tetris Soprattutto parlando poi Mi sconcentrisco No Vai Boom Questo lo andiamo a mettere qui Perché tanto lo andiamo a occupare col blu Poi La cosa buona ragazzi di Tetris È imparare i pezzi a memoria Io per esempio È tanti anni che non giocavo a Tetris Per cui non mi ricordo ancora bene Le tattiche Vedi qua ho sbagliato Qua ho sbagliato Qua ho fatto una cappellata Sì 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 Sto giocando malissimo Ora mi tocca creare dei buchi Cercare un attimo di svincolamento E andarle a recuperare Tipo questa doppia È ottima Però stiamo salendo di livello E Mi sto incasinando Guardate doppio Bello Ora questo lo mettiamo qua Questo lo mettiamo qui Perché tanto poi l'altro Ah era al contrario Porca loggia Quello ho sbagliato Questo lo mettiamo qua Perché questo lo mettiamo qua Andiamo a creare No mi tocca Mi serve la barra verde La barra azzurra Scusatemi La barra 4 Cazzo L'errore di prima ho fatto L'errore di prima Guardate Guardate era perfetto Il calcolo Il calcolo era perfetto Ho fatto quell'errore magistrale E Qua ciao 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 Andiamo a perderla Andiamo a perderla L'obiettivo è superare Il livello 15 Arrivare al livello 15 E io qua invece La vado a perdere La vado a perdere Mamma mia Come sto giocando male Come sto giocando male Non mi sembrava Di giocare così male Però Sinceramente Parlando La barra lunga In questo momento Non mi serve Porca loggia Dai che liberiamo un buco Dai che questo Lo mettiamo lì E questo Andiamo a fare Una cagata Andiamo a fare Una cagata Andiamo a fare Ma pazzesca eh Ma pazzesca Si e ma che faccio Metto qua Per forza Mettiamo qua Facciamo una singola Liberiamo quel buco Che lo andiamo subito A tappezzare In questo modo Sto giocando di merda Ora mi servono a ti Vedi Ora mi servono a ti Vedete che batte il cuore No c'è un rumore Strano Comunque si sta a indicare Che sto perdendo Si la sto perdendo La sto Hashtag la sto perdendo Ma che sto Combinando Ma che sto Combinando La sto giocando Malissimo La sto giocando Veramente male C'ho paura Si vabbè Ciao Ciao Sono arrivato Però a livello 7 Livello 7 Livello 7 Totale linea 69 Singole 26 Doppie 9 Triple 3 LM7 7 Completamente Unito di Tetris Bla 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 Ccc Ragazzi Purtroppo non posso Mettervi la musichetta Di Tetris Perché sarebbe copyright Se volete ve la faccio io Per tornare un po' La vecchia infanzia E con questo vi saluto Vi ringrazio E vi chiedo Cortesemente Un pollice in su Una condivisione Un commento Un bacione Un abbraccio Da Luke è tutto Un bacione Ciao a tutti Ciao